Frullato disintossicante a base di carote, arancia e zenzero Grazie a questo frullato disintossicante a base d'arancia, carote e zenzero, raggiungerete un adeguato equilibrio interiore ed un benessere che si rifletterà anche all'esterno. . Quando l'organismo arriva al limite e iniziate a notarne gli effetti, dovete dare importanza a questo tipo di bevande naturali. Fattori come un'alimentazione squilibrata o lo stress possono apportare conseguenze negative quali stanchezza, mal di testa, ritenzione idrica e indigestione. . Iniziare la giornata bevendo questo frullato naturale può aiutarvi a combattere la maggior parte di questi effetti. Che ne pensate di provarlo? Il bisogno di eliminare ciò che è tossico dal nostro corpo. . 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 Tanti, sono quelli che infiammano i nostri tessuti e che possiamo respirare, ingerire o semplicemente toccare. Tossici pneumoconiotici, influiscono sui tessuti polmonari. Tossici sistemici o focali, sono determinati tossici che possono colpire qualsiasi parte del nostro organismo o alcune parti nello specifico. Tossici. Anche se siamo certi che tutti questi dati potrebbero spaventarvi, c'è da dire che il nostro corpo immagazzina solo piccole quantità di tossicità, ma i problemi sorgono dagli accumuli. Tossici. Qualsiasi alimento naturale, proveniente da coltivazione biologica e ricco di vitamine, è già di per sé un agente terapeutico capace di eliminare questi componenti tossici che si accumulano nel nostro corpo. Nei nostri articoli vi parliamo molto spesso dei benefici che si ottengono bevendo tutti i giorni un bicchiere d'acqua tiepida e limone, un eccezionale rimedio per depurare l'organismo. Oggi vogliamo proporvi un'altra potente combinazione dai molteplici benefici che vi sarà di grande aiuto. Vi elenchiamo gli ingredienti di base. Secondo diversi studi, bere in modo regolare l'espremuta d'arancia ci permette di far fronte allo stress ossidativo. Tutte le molecole residuali provenienti dall'atmosfera tendono ad invecchiare i tessuti infiammandoli ed elevando il rischio di sviluppare diverse malattie. Secondo il Dipartimento di Endocrinologia dell'Università di Buffalo, Stati Uniti, le arance possiedono un'interessante azione depurante e protettiva che agisce contro gli effetti di una cattiva alimentazione. La vitamina C presente nelle arance favorisce la corretta circolazione del sangue e l'equilibrio del colesterolo nel sangue combattendo anche arteriosclerosi. Le carote migliorano la salute epatica favorendo una corretta depurazione dell'organismo grazie al loro apporto di vitamine, beta carotene e fibre. Un altro dato interessante riguarda l'olio di carota, questo è ricco di carotole alfa-pinene, ottimi per disinfiammare i tessuti e rigenerare il fegato nel caso in cui si soffrisse di steatosi epatica. Lo zenzero è una radice medicinale dalle proprietà energizzanti e depurative. È ideale per condire i cibi ed i frullati in quanto riduce la quantità di sostanze tossiche nel corpo. Come preparare il nostro zenzero? Frullato disintossicante. Ingredienti. 2 arance 2 carote 1 bicchiere d'acqua 200 ml 1 cucchiaino di zenzero grattugiato 5 gr. Preparazione. Sarà pronto in circa 5 minuti. Dovete solo procurarvi arance e carote provenienti da agricoltura biologica. Una volta ottenuto il succo delle prime, dovrete solo lavare bene le carote e tagliarle a pezzettini per facilitare la preparazione del frullato. Grattugiate la radice di zenzero, ricordate che ne basta poca, mettetela nel frullatore insieme all'acqua, alle carote e alla spremuta d'arance, frullate fino ad ottenere un liquido omogeneo. Provate a bere questo frullato disintossicante al mattino. È delizioso. Grazie. Grazie a tutti